Sì, però purtroppo regaliamo sempre il primo tempo agli avversari e quindi di conseguenza poi è sempre abbastanza difficile andare con la partita, però ci abbiamo provato, se avessimo cercato un po' meno di presunzione giocando un po' più di squadra probabilmente l'avremmo recuperata, vabbè, li recupereremo per la prossima.